La profezia di Medjugorje che si sta avverando. Ecco cosa succederà nel 2023. Medjugorje. Prima di continuare il video, vi chiediamo una gentilezza. Iscrivetevi al canale e mettete mi piace a questo video. Ci aiuterete a divulgare le nostre storie e la parola di Dio. Medjugorje è un piccolo paese della Bosnia-Herzegovina dove dal 1981 sei veggenti affermano di ricevere delle apparizioni della Madonna, che li ha scelti come suoi messaggeri per il mondo. La Madonna ha affidato loro ten segreti che riguardano il futuro dell'umanità e che saranno rivelati in modo progressivo quando lei lo vorrà. Finora sono stati rivelati solo tre segreti e il primo riguarda proprio il 2023. Si tratta di un grande evento che scuoterà il mondo intero e che sarà un segno tangibile della presenza di Dio tra noi. Non sappiamo di cosa si tratti, ma sappiamo che sarà qualcosa di mai visto prima, sconvolgente e toccante. Per capire meglio cosa ci aspetta, vi racconterò una storia vera che riguarda una persona che ha avuto una visione anticipata di questo segreto. Si chiama Marco e vive a Roma. È un ragazzo come tanti, frequenta l'università e ha una vita normale. Non è particolarmente religioso, anche se crede in Dio e va in chiesa ogni tanto. Un giorno, mentre stava tornando a casa in autobus, si è addormentato e ha fatto un sogno strano. Si è visto in una grande piazza circondato da migliaia di persone. Tutti guardavano verso il cielo, dove c'era una luce intensa e abbagliante. Poi ha sentito una voce dolce e potente che diceva «Figli miei, sono vostra madre, la regina della pace. Sono venuta per annunciarvi il primo Dei Ten Segreti che ho affidato ai miei veggenti a Meggiugorie. Questo è il segno del mio amore per voi e della mia presenza tra voi. Questo è il segno che Dio esiste e vi ama infinitamente. Questo è il segno che il tempo della grazia sta per finire e che dovrete scegliere tra la luce e le tenebre, tra il bene e il male, tra la vita e la morte. Questo è il segno che vi invita alla conversione, alla preghiera, al digiuno, alla penitenza, alla carità. Questo è il segno che vi prepara al secondo segreto, che sarà un castigo per l'umanità peccatrice e ribelle. Questo è il segno che vi esorta a fidarvi di me, del... È mio figlio Gesù che vi ha salvati con la sua croce e la sua resurrezione. Questo è il segno che vi chiede di diffondere il mio messaggio nel mondo intero, perché tutti possano conoscere la verità e la salvezza. Questo è il segno che vi dico, non abbiate paura. Io sono con voi sempre, fino alla fine del mondo. Marco si è svegliato di colpo, tutto sudato e agitato. Non capiva cosa fosse successo, ma sentiva dentro di sé una pace e una gioia indescrivibile. Si è reso conto che aveva assistito a qualcosa di straordinario e reale, non un semplice sogno. Ha sentito il bisogno di raccontare la sua esperienza a qualcuno, ma non sapeva a chi. Ha deciso di parlare con un sacerdote, che lo ha ascoltato con attenzione e gli ha detto Marco, quello che hai visto è una grazia speciale che Dio ti ha fatto. Ti ha mostrato in anticipo quello che accadrà nel 2023, quando sarà rivelato il primo segreto di Međugorje. Non so perché ti abbia scelto tu, ma forse vuole usarti come il suo strumento per diffondere la sua parola. Ti consiglio di pregare molto, di leggere la Bibbia, di frequentare i sacramenti, di vivere in modo coerente con la tua fede. Ti consiglio anche di andare a Međugorje, se puoi, per ringraziare la Madonna e per ascoltare i suoi messaggi. Ti consiglio infine di testimoniare quello che hai visto e sentito senza paura e senza vergogna, perché molti possano credere e convertirsi. Marco ha seguito il consiglio del sacerdote e ha iniziato un cammino di rinnovamento spirituale. Ha cambiato il suo modo di pensare, di parlare, di agire. Ha iniziato a pregare ogni giorno, a leggere la Bibbia, a partecipare alla Messa, a confessarsi, a ricevere la comunione. Ha iniziato a fare opere di carità, a visitare i malati, ad aiutare i poveri, a sostenere le missioni. Ha iniziato a parlare della sua visione a tutti quelli che incontrava, ai suoi familiari, ai suoi amici, ai suoi colleghi, ai suoi professori, ai suoi compagni. Molti lo hanno preso per pazzo, altri lo hanno deriso, altri lo hanno ignorato, ma molti lo hanno ascoltato con interesse e curiosità, e alcuni si sono avvicinati alla fede o sono tornati a praticarla. Marco è diventato un apostolo della Madonna e del suo messaggio. Ha creato un canale YouTube dove racconta la sua storia e invita le persone a prepararsi al primo segreto. Ha scritto un libro dove descrive la sua visione e spiega il significato dei dieci segreti. Ha organizzato dei viaggi a Medjugorje per portare altre persone a conoscere la regina della pace. Marco è felice e sereno. Sa che il 2023 sarà un anno decisivo per il destino dell'umanità e che dovrà affrontare molte prove e difficoltà. Ma sa anche che non è solo che al suo fianco ci sono la Madonna e Gesù che lo proteggono e lo guidano. Sa che il primo segreto sarà un dono per tutti quelli che credono e si convertono e un monito per tutti quelli che non credono e si ostinano nel peccato. Sa che il secondo segreto sarà un castigo per il mondo intero ma anche una misericordia per chi si pentirà. Sa che gli altri segreti saranno ancora più terribili e meravigliosi ma anche più vicini alla fine dei tempi e alla venuta gloriosa di Cristo. Marco non ha paura del futuro. ha fiducia nel piano di Dio e nella profezia di Meggiugorie. Spera di essere degno di vedere il compimento di tutto quello che la Madonna ha annunciato e prega per tutti noi affinché possiamo essere pronti ad accogliere il primo segreto nel 2023. E voi? Siete pronti? Credete alla profezia di Meggiugorie? Vi preparate con la preghiera, il digiuno, la penitenza, la carità? Diffondete il messaggio della Madonna nel mondo. Se non lo fate ancora, fatelo ora. Non rimandate a domani quello che potete fare oggi. Il tempo sta per scadere, il primo segreto sta per arrivare e sarà qualcosa di mai visto prima. Ora pregate insieme a noi. O Maria, Regina della Pace, ti ringraziamo per le tue apparizioni a Meggiugorie e per i tuoi messaggi di amore e di speranza. Ti chiediamo di intercedere per noi presso il tuo figlio Gesù affinché ci doni la grazia di credere alla tua profezia e di prepararci al primo segreto. Ti chiediamo di aiutarci a convertirci, a pregare, a digiunare, a fare penitenza, a praticare la carità. Ti chiediamo di proteggerci dal male e dal peccato e di guidarci sulla via della santità. Ti chiediamo di farci testimoni del tuo messaggio nel mondo e di farci apostoli della tua pace. Ti chiediamo, infine, di accoglierci nel tuo cuore immacolato e di condurci alla gloria del tuo figlio risorto. Amen. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.